Siamo riusciti anche questa volta, abbiamo fatto un super evento come vedete, siamo soddisfatti ma questo non è solo merito nostro e di tutto il pubblico che è venuto presente, di tutti gli atleti che si sono allenati per tempo a fare, hanno reso un bellissimo spettacolo e di tutti voi che ci date visibilità, le tv, i giornali. Ma io so che vuol dire stare lì sopra, che sono stato per tanti anni e di conseguenza cerco di dare ciò che ha bisogno al ragazzo, ciò che credo che io abbia bisogno, perché non è che si indovina sempre. Gli incontri come sono andati? Gli incontri sono stati belli, qualcuno meno bello, ma quanto sta che comunque il suo livello era altissimo stasera. Dove vuole andare questo sport secondo te? Questo sport lo dobbiamo, intanto lo facciamo vedere a mezza Europa perché passa su Sky, passa su Arezzo TV, diversi tv importanti, l'obiettivo è tanto anno, entro quest'anno, dove vuole andare? A me quello che interessa principalmente oltre il bene dei giovani è nella città di Arezzo, siccome mi ha accolto 21 anni fa, può traccambiare portando un movimento. Portando sport, portando benessere, proprio così pieno non me l'aspettavo nemmeno io, ma io sono felice, più persone vedi più sei felice, quindi di conseguenza non mi aspettavo nemmeno che venivi tu oltretutto.